Onorevole Gianni Melilla, dopo la sua visita di questa mattina al carcere di Sulmona sono riemersi ancora una volta i problemi di sovraffollamento e della carenza di organico del personale. Quali gli impegni che assumerà adesso? Per garantire un trattamento umano ai detenuti occorre organizzare il lavoro del personale di polizia penitenziaria ma anche dei rieducatori, psicologi, personale sanitario in modo ottimale. Purtroppo a fronte di una popolazione carceraria di quasi 500 persone noi abbiamo poco più di 250 persone che si occupano della sicurezza e gli agenti di polizia penitenziaria sono costretti a turni di lavoro molto stressanti. Poi c'è una carenza anche sul versante rieducativo perché avere pochi rieducatori, addirittura un solo psicologo sicuramente limita fortemente le attività di rieducazione. Noi non dobbiamo mai dimenticare che la Costituzione italiana concepisce la pena detentiva non come un atto di vendetta ma come un atto finalizzato al recupero del detenuto per far sì che la società non debba poi quando questi detenuti escono dal carcere avere un nemico tra virgolette ma invece una persona che non delinqua più e che quindi sia pienamente recuperato in un contesto sociale. Poi ci sono naturalmente problemi che riguardano il lavoro di questi detenuti che purtroppo con la diminuzione delle risorse pubbliche è diminuito nel tempo. Il fondo Mercede purtroppo è molto limitato, lì c'è una falegnameria, una pelletteria, una sartoria ma sono pochi i detenuti che possono lavorare. Poi gli straordinari del personale di polizia penitenziaria sono talmente tanti che non vengono pagati magari regolarmente e questo sicuramente complica un po' la situazione perché già fare turni di lavoro praticamente il personale lavora una settimana in più al mese e questo non è accettabile. Ho trovato una direttrice e un comandante del personale di polizia penitenziaria estremamente professionali, seri, che fanno il loro lavoro con passione e dedizione e io voglio ringraziarli perché il servizio che loro svolgono è di grandissimo livello professionale.